C'è chi afferma che essere se stessi è la migliore strategia, la miglior tecnica di seduzione. In realtà questa affermazione, lascio un po' il tempo che trova, ed è una affermazione che non significa nulla, per diversi motivi. Il primo motivo è che essere se stessi di fatto è una chimera, perché gli esseri umani sono guidati spesso da impulsi che non riescono nemmeno a controllare, nemmeno a gestire, fanno delle azioni che non sanno che effetti provocheranno e pensano che questo sia essere se stessi. In realtà essere se stessi significa esercitare il libero arbitro e chi fa questo tipo di ragionamento ha più o meno lo stesso libero arbitro che può avere una capra con una catena legata ad un palo. Poche possibilità di esercitare il suo controllo sugli eventi. Invece la cosa fondamentale, il miglior modo per sedurre è quello di entrare in sintonia con ciò che la vita ci offre fondamentalmente. Cioè se il mio comportamento mi produce dei risultati che sono allineati con quelli che sono le mie esigenze, allora anche se non so perché, anche se non so cosa significa essere me stesso, in realtà saperlo non è neanche importante. L'importante è ottenere i risultati voluti nella seduzione. Se invece non ottengo i risultati voluti, evidentemente essere spontanei non è utile, è qualcosa di inutile. Un po' come dire, se posso nutrirmi dei frutti spontanei che la natura mi offre, questo mi fa stare con la pancia piena, va bene la spontaneità. Se invece faccio la fame, forse vale la pena imparare le regole dell'agricoltura, a zappare il terreno, concimarlo, innaffiarlo. Tenete presente che ad esempio poi nella seduzione ci sono grosse variabili statistiche. Ad esempio per quanto riguarda i maschi, ci sono alcuni maschi pochi che hanno tante donne e molti maschi che hanno pochissime donne. E quindi voglio dire che il comportamento di questi maschi, i cosiddetti maschi alfa, che hanno, diciamo, manifestano comportamenti quali la sicurezza in sé, la disinvoltura, sono spesso indifferenti alle opinioni altrui, hanno alle volte un comportamento anche sessualmente promiscuo, sono un po' libertini e riescono a sedurre e coinvolgere molte donne. Mentre altri maschi, la maggior parte, diciamo, l'essere umano comunque ha vissuto in gruppo, i maschi beta o i maschi dominanti hanno meno possibilità, accedono a poche donne, insomma, e spesso appunto, e quindi la media fa più o meno, diciamo, che è una roba equilibrata, però ce ne sono pochi che hanno tanto po' come, come dire, quello che succede da un punto di vista economico, il 10% della popolazione mondiale detiene il 90% delle ricchezze, ed è così, diciamo, anche da un punto di vista della seduzione da parte del maschio, il 90, il 10% dei maschi detiene il 90% delle donne, detti in altri termini, da un punto di vista sessuale intendo. I maschi gregari, invece, fanno parte del 90% che deve spartirsi, accontentarsi del 10%. Questo da un punto di vista sessuale non significa non sposarsi, eccetera, ma sappiamo, ad esempio, che la percentuale di tradimenti è comunque molto alta. E quindi tutto questo per dire che cosa? Che essere se stessi è semplicemente un qualcosa, è un'affermazione che non ha senso, quindi la cosa importante è imparare a capire quali sono i comportamenti più efficaci che ci permettono di interagire nel campo della seduzione in modo migliore rispetto, diciamo, a quelle che sono le nostre esigenze, o comunque perlomeno allineate alle nostre esigenze. Il modo migliore è quello di agire a livello emotivo, a livello subliminale, amplificare le tensioni, amplificare le emozioni, in modo tale che l'altra persona ci possa comunque etichettare o come maschi alfa o anche come femmine alfa, perché anche le donne istintivamente seduttrici sono le femmine alfa, però quest'istinto non è un qualcosa di o che c'è o che non c'è, è un qualcosa che si può imparare. La buona notizia è che si può imparare, diciamo così, a diventare seduttori, e si può imparare a diventare seduttrici. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, seguitemi anche sul blog www.seduzionevip.com Ciao!